Sara aveva paura e voleva allontanarsi da quell'uomo diventato violento come raccontava questo amico online Recentemente aveva anche deciso di denunciare Jawad Jawar Isham il 38enne che nella notte di mercoledì l'ha uccisa coltellata assieme alla madre nell'appartamento di via Benedetto Varchi di fronte ai figli un ragazzo di 16 anni e una bambina di 2 La relazione tra Sara e Jawad si sarebbe logorata nel corso degli anni i momenti di tensione ogni giorno si sarebbero fatti sempre più pesanti sino al drammatico epilogo L'uomo è stato arrestato pochi minuti dopo il duplice delitto Durante la notte trascorsa in questura non avrebbe detto nulla gli agenti di polizia e al PM Marco Dioni potrebbe però raccontare la sua verità nelle prossime ore nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto e l'interrogatorio di garanzia Sarà poi conferito dalla procura di Arezzo anche l'incarico per eseguire l'autopsia sui corpi delle vittime Intanto a Ceciliano dove abitava la madre Brunetta Ridolfi oggi resta un gran dolore Dolore di tutti, è un guaio, sono morti tutti i due I due figli in questo momento si troverebbero con il nonno nella sua casa di Ceciliano con l'appoggio costante dei servizi sociali Sarà poi la magistratura a prendere la decisione definitiva Una cosa proprio, non devono esistere Veramente Poi c'è questa creatura, c'è questa creatura No, io guardi, veramente, ho i brividi, ho i brividi Grazie Grazie Grazie